Gek Berton, camionista, accompagna l'amico ristoratore Wang Chi all'aeroporto, dove deve arrivare la di lui fidanzata Miaoyin. Ma nella Cenatown di San Francisco le gang dettano legge e i signori della morte rapiscono la ragazza. Il mandante è il misterioso Lopan, che necessita della ragazza per realizzare un'arcana profezia. Chi e Gek si affidano all'anziano Aghishene e ai suoi consigli, decisi ad affrontare ogni pericolo pur di riportare la ragazza a casa.